Allora, sono Barbara Geroni, la restauratrice dei beni storici artistici. È stato un restauro conservativo, più estetico, per rendere di nuovo una lettura a quest'opera molto importante per la misericordia. Aveva subito pesanti restauri nel passato e quindi abbiamo assottigliato alcune vernici che erano state sovrapposte per poter leggere nella sua complessità tutta la raffigurazione descritta dal pittore.